buona sera a tutti amici io sono fabio e benvenuti al mio canale faccio questo breve video perché volevo avvisare i miei iscritti che il canale ha subito una variazione non ha più il mio nome ma bensì ho segnato un nome nuovo al canale che è il sick race go ho scelto questo nome perché volevo dedicarlo alla mia terra di appartenenza ed è un comunque un canale dedicato tutti coloro che come me hanno la passione per per la simulazione è fatta questa breve premessa volevo anche avvisarvi che io insieme ai miei amici quali nixos 1d3 alessandro deluca fabrizio miceli il grande fabrizio miceli di sim drivers punto eu stiamo lavorando per regalarvi un format nuovo e quando prima insomma ci stiamo lavorando avrete notizie spero a breve termine qualora caso non l'aveste fatto vi invito a iscrivervi ai canali dei miei amici descrizioni vi lascerò i link dei seguenti canali e adesso li faccio vedere per rimanere comunque sempre aggiornati ve li faccio vedere ce li ho qua già in ordine alex de luca nixos 1 2 3 è il grande fabrizio miceli di sim drivers punto eu quindi iscrivetevi attivate la campanellina per rimanere aggiornati e ci vediamo al prossimo video ciao